Buonasera ragazzi, eccoci qui a un altro appuntamento sul nostro percorso riguardante il nostro percorso olfattivo potremmo chiamarlo e avevamo parlato l'ultima volta di alcune fragranze molto realistiche rispetto al tabacco anzitutto vorrei salutare, parentesi molto male programmata, i nuovi iscritti al mio canale tra cui diversi alunni che affettuosamente saluto e ringrazio per avermi iniziato a seguire hanno effettivamente scoperto in modo inaspettato e tutt'altro che da me pilotato il mio canale e hanno il piacere di sostenermi anche se non so quanto possono essere poi sinceramente interessati a questi profumi però comunque sono molto contento di ricevere il loro affetto e la loro partecipazione così emozionalmente vissuta. Allora, l'altra volta abbiamo appunto parlato di alcuni profumi molto realistici al tabacco e penso di essere l'unico che perlomeno in Italia segue così tanto la corrente del cosiddetto realismo nell'ambito di quest'arte che è la profumeria artistica appunto e non anche commerciale perché quella artistica viene considerata profumeria di micchia invece noi parliamo anche molto spesso di prodotti non solo commerciali ma anche molto economici dunque oggi parleremo di due nuove scoperte io non li considero uno di due soprattutto così realistico ma penso che non si possa mettere da parte del tutto perché ha delle nuanze che ricordano il sigaro se non certi tabacchi un po' dolci ma soprattutto certi sigari cubani non fate caso al fatto che spesso metto una lettera piuttosto che l'altra ma la giornata è lunga e molto stancante sempre dunque si tratta del mitico Siga di Remi Latour un profumo degli anni dei primi anni 90 molto diciamo decantato ma anche criticato e comunque soprattutto nei paesi anglosassoni è molto conosciuto questa dovrebbe essere in realtà una delle ultime formulazioni aveva qualche differenza nell'etichetta la prima che c'è stata d'altronde credo sia difficile soprattutto da internet reperirla poi spesso mettono soltanto la confezione fuori e non ci si rende conto di quale edizione sia non ho approfondito esattamente quale aspetto semiografico possa farci riconoscere l'una o l'altra edizione si tratta di un prodotto economico so che la versione precedente aveva delle note fruttate più mascherate quella nuova dovrebbe averne più evidenti io non ho capito esattamente quale questa sia sta di fatto che è un esatto dupe ispirato a sto anche per distruggere perché non si apre in realtà si spruzza da qui ispirato a barbara london esatto ragazzi è una versione si economica che prende forse anche una strada un po' meno speziata appunto qualcuno dice più fruttata così come dichiara ma in realtà tutta la linea di questo tipo di profumi della remilla tour aspettate forse avevo anche il depliant da qualche parte eccolo vedete c'è anche questa piccola fisarmonica di con tutti i loro profumi di questa linea perlomeno cigar classic cigar blue label poi c'è black wood black wood che è legno invece agar wood no legno da gara allora sono quasi tutte imitazioni di profumi molto più costosi voi dovete considerare che anzitutto se è un dupe non è una patacca perché se era patacca era uguale a barbary london però non era barbary london era un falso oppure si poteva essere scritto londra e comunque insomma era qualcosa di effettivamente molto troppo esplicito no e d'altra parte dicevo pagare un profumiere un naso oppure un diciamo un altro operatore della chimica che possa realizzare e con pochissimi soldi in questo caso perché di solito il profumiere costa allora magari si pagano altre figure professionali però in ogni caso costa il fatto di creare una fragranza originale e strutturarla da zero perciò moltissime anche case maison di nicchia spesso ricorrono al cromatografo a strumenti che possano aiutarli anche a capire oggi come oggi che note ci ha messo che elementi chimici o oli ci ha messo tizio o caio ma comunque insomma si ispirano ad altre fragranze ok non vi sto a dire come eccetera che qui rischio qualche denuncia o comunque di dire anche stupidaggini non è il mio settore però sta di fatto che questo come tanti altri è un'ottima profumazione di Barbara London purtroppo in Italia si trova si riesce a acquistare anche da internet sui 30 euro perciò a quel punto se uno cerca Barbara London ci mette qualcosa di più e compra quello io glielo consiglio perché forse è anche più persistente e più forte non che questo non sia persistente è un po' più leggero dura una mezza giornata al massimo anche un po' di più però non è così forte nella sua proiezione ma comunque si fa sentire è un profumo speziato a suo modo fruttato con un fondo di muschio di quercia e legni soprattutto è questo non è tanto diciamo identificabile la nota di tabacco ma questo legno questo qualcosa di affumicato e antico e anche un po' dolciastro ci può far pensare effettivamente a un sidaro cubano magari di quelli più aromatizzati più dolci ma senza alcuna nota di fetore perché quelli hanno anche aspetti a volte stallatici di macerazione invecchiamento affumicatura che possono risultare per alcuni addirittura quasi una puzza qui no questo è un qualcosa che casomai come dire lo emola in modo molto più romantico romanzato come si potrebbe dire no è una stilizzazione del fumo casomai no e è uguale a un altro molto simile a un altro dupe sempre di barbary london ma a sua volta secondo me è derivato da questo che è cuba red profumi a forma di sigaro si chiamano cuba proprio a forma di un sigaro invece di tot e sigaro insieme qui sono cinque sigaro insieme e il cuba red è molto simile a questo e a loro volta tutti e due sono derivati da barbary london ok perciò non è niente di così innovativo io lo volevo sentire per fare diciamo una piccola per averlo perché poi non ho né barbary london né cuba red che ho finito in passato non posso dirvi se questo sia più buono di cuba red perché anche quello mi piaceva adesso lo sto utilizzando a me piace secondo me è un profumo che non ha età certo su un ragazzino un giovane forse è considerato d'adulto perché quasi tutti sentirebbero profumi da papà più che da figlio no però su un giovane secondo me ha comunque una connotazione che non è poi così vetusta perché comunque la sua dolcezza eccetera è un profumo da uomo è recente non è qualcosa di così vecchio già il fatto che non sia soltanto secco ma ha una sua dolcezza no sicuramente su un uomo maturo è il top e come versatilità per me le serate estive non è così male perché comunque soprattutto se uno va al mare l'idea dell'esotico il fatto che si senta in giro spesso il fumo di sigari per me lo rende qualcosa di più che apprezzabile certo è sotto ogni caldo più della mezza stagione dell'inverno in cui lui troverà l'impiego perfetto secondo me è anche qualcosa da mettere in situazioni di eleganza anche se a seconda di come noi concepiamo il profumo elegante non è né il profumo da discoteca da rimorchio cosiddetto per quanto io la donna non la percepisca né come un castello da conquistare né un rimorchio da un carrello da rimorchiare però dicevo non è perciò da rimorchio diciamo quando uno invece si vuole vestire elegantissimo ci sono profumi ancora più sofisticati però non ci sta bene su un uomo vestito elegante perché comunque è qualcosa di non è qualcosa di giastro dozzinale soprattutto però secondo me è un profumo casual casual neanche sportivo perché non ha quel profumo da bagnoschiuma appena fatta la doccia dopo la palestra quei profumi più sportivi che si mettono spesso hanno proprio la dicitura sport un profumo da uomo casual che però secondo me ha una grande versatilità ok se non potete sentire questo sentitevi barbara e landon che si trova in quasi tutte le profumerie anche ad acqua e sapone di gotà e quant'altro e se vi piace qualcosa del genere potete ordinarlo la mia delusione è stata soltanto che effettivamente assomiglia già a questi profumi quando invece speravo di trovarci ancora più accentuate le note che dicevano di ananas prugna albicocca delle note fruttate che potevano richiamare più che il sigaro qualche tabacco fruttato da pipa la delusione appunto è che io non ce le sento più di tanto ma sento un accordo molto simile a quelli poi magari c'è ora una nuova anzi in più però rispetto alle note fruttate non è diciamo il profumo secondo me da vendere come tale insomma c'è un accordo abbastanza complesso non così originale che rievoca qualcosa di esotico legnoso speziato forse non so se anche orientale in qualche modo di conseguenza può anche ricordare qualche tabaccato ok qualche cosa di tabacco di fumo di antico a me ricorda infatti anche che però avrei potuto preparare prima ma anche barbara e l'anno alla sua volta mi ricordano un pochettino questo Angel for men pure Havan di Thierry Muglet però questo è comunque la versione più complessa con anche più miele più dolce anche più moderna è comunque una versione rielaborata questo però secondo me è di quella famiglia ok non c'è nulla di così realistico di tabacco ma nell'insieme è un profumo simpatico ok potremmo dire così in modo un po' più banale bella la confezione di latta comunque è carino se a una persona piace un profumo al tabacco ci fa anche una sua figura no che piaccia alle donne io credo di sì perché in passato ho avuto Cuba Red e è stato apprezzato e questo gli assomiglia tantissimo non vedo perché una donna non debbia piacere poi ognuno ha i suoi gusti ognuno ha la propria memoria olfattiva perché se ce l'aveva il nonno il papà lo attribuiranno è una figura più adulta più grande più becia detto fra noi ok andiamo avanti l'altro profumo e ultimo di questo breve spero video è in realtà in una confezione che non è la sua se fossi stato un vero youtuber sui profumi adesso avrei messo l'immagine del profumo da cui proviene casomai scriverò solo in descrizione si chiama Bella Antonia di Hilde Soliani è di produzione italiana un profumo comunque ovviamente del ventunesimo secolo però di questi ventunani non ricordo esattamente l'anno sa di fatto che comunque io credo che almeno dieci anni li abbia ma a parte queste nozioni che avrei potuto impararmi molto facilmente ma non ho fatto lo troverete su Fragranti che è in una confezione molto bella come quelli dei Demeter che vi ho fatto vedere cilindrica e è un profumo venduto come profumo al tabacco al caffè appunto Bella Antonio si chiama allora quello che mi piace di più di questo profumo è quello che sento dal tappo quando perciò ho le note di fondo le note di fondo sono sì di un profumo più da pipa ma ricordano anche dei sigari al caffè il problema è che quando lo spruzzo invece mi ricorda in modo molto diretto un profumo che sa di tabacco da pipa ne abbiamo parlato l'altra volta se volete iscrivetevi al canale mettete like a questo ma andate anche a vedere il video precedente sui profumi al tabacco questo mi ricorda tanti profumi al tabacco da pipa come quelli di Demeter ma come anche il vento canale che avevamo detto assomiglia a un sigano ma anche al tabacco da pipa e non sono rimasto dell'uso come profumo perché mi piace tantissimo non è così dolce è proprio realistico di un tabacco di un trinciato casomai io speravo che essendoci anche il caffè potesse essere più amaro e più verso il sigaro che verso invece il sigaro io lo sento ha profumo uno spruzzato il caffè ugualmente ma quando lo spruzzo secondo me è predominante l'accordo di pipa di tabacco da pipa neanche fumato tabacco da pipa fresco dalla carta dalla borsetta dove si tiene tabacco e pipa perciò io ve lo consiglio ha una discreta persistenza almeno mezza giornata ma anche di più diciamo che non è una bomba atomica a livello di proiezione però è un profumo molto maschile ma anche femminile perché il tabacco è un prodotto unisex è un profumo perciò unisex ma secondo me anche su un uomo è molto virile ripeto ci fa una bellissima figura certo non è sportivo non è iper giovanile soprattutto di un uomo che vuole vestirsi in modo sì anche casual ma soprattutto comunque elegante qualcosa di proiettato verso la maturità perché anche la pipa ha quella connotazione poi se ci sono donne che fumano la pipa giovani ragazzini che fumano la pipa questo sono comunque eccezioni ma di solito è l'uomo maturo quello che fuma la pipa no? la profumeria tende un po' cercare di come dire arrivare anche a delle categorie io non mi risulta che lei abbia detto sia la produttrice molto simpatica molto brava non mi risulta abbia mai detto che questo prodotto sia indirizzato a uomini maturi e non a donne perché è un prodotto unisex e così non ha mai detto vietate i minori vietate non ha detto niente perché secondo me è un profumo che sta bene volendo su tutti come il tabacco c'è a chi piace il tabacco e a chi no ok? i bambini secondo me non c'entrano nulla con il tabacco fa male ad adulti figuriamoci durante lo sviluppo perciò in questi video io non voglio incentivare nessuno al fumo che pure io diciamo ogni tanto ho provato soprattutto in sigari e pipa perché soprattutto durante la crescita può oltretutto attaccare anche la tiroide eccetera è una cosa che andrebbe evitata infatti il buttarsi in profumi che ci ricordano quei profumi se ci piacciono può essere una soluzione perché questo profumo fa meno male di fumarsi pipa e sigaro secondo me ok? lo dico diciamo per essere onesto ma io la penso così ovviamente nell'accordo di pipa è ovvio che io possa sentirci delle nuanze anche leggermente fruttate tipo di frutta secca macerata aromatizzazioni in questo senso mi ricordo infatti molto il vento canale di cui parlammo nell'altro video precedente Dino Campagna vento canale se adesso dovessi tirare giù il profumo e far vedere a cosa somiglia perdiamo tempo e il rischio di far cadere tutto e poi di quel profumo ne abbiamo già parlato ok? perciò vi invito se vi è piaciuto se vi sono utili questi video a iscrivervi al canale e a mettere like ma soprattutto a provare queste meraviglie in questo caso si tratta di un prodotto di nicchia made in Italy aiutiamo oltretutto gli artisti del nostro paese e i grandi produttori artigiani è un po' costoso perché è di nicchia e poi se volete un profumo molto versatile commerciale molto meno impegnativo abbiamo parlato di questo interessantissimo Sigar di Remillatur qualcosa di tabaccato ma molto meno spinto e perciò secondo me anche molto più adatto a chi non si è ancora avvicinato a profumi di nicchia e realistici al prossimo video qualsiasi commento qualsiasi diciamo domanda non esitate a scriverla alla prossima a chi non si è ancora